Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre Onnipotente, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, sia con noi, o Dio, per salvare tutti gli uomini, hai racchiuso nella realtà dell'acqua i segni più grandi della Tua grazia. Ascolta la nostra preghiera e infondi in quest'acqua la Tua benedizione, perché, assunta a servizio dei Tuoi misteri, sia portatrice dell'efficacia della Tua grazia per mettere in fuga i demoni e debellare le malattie. Tutto ciò che con essa verrà sperso sia liberato da ogni influsso del maligno nelle dimore dei Tuoi fedeli non abiti più lo spirito del male e sia allontanata ogni sua insidia. grazie all'invocazione del Tuo Santo Nome possano i Tuoi fedeli uscire illesi da ogni assalto del nemico. Per Cristo nostro Signore. Amen. Altra versione. Signore Dio Onnipotente Fonte e origine della vita dell'anima e del corpo benedici quest'acqua e fa che ce ne serviamo con fede per implorare il perdono dei nostri peccati e la grazia di essere sorretti in ogni infermità e difesi da ogni insidia del nemico. la Tua misericordia, oh Padre faccia scaturire per noi l'acqua viva della salvezza perché possiamo accostarci a Te con cuore puro e fuggire ogni pericolo dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen.